non è che devo mettere qualcosa perché te senti suggestione fammi capire io no 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 è per te cioè io se mi tolgo la velpa togliete allora frate no è che fa freddo capito quindi te dici ciao a tutti ragazzi bentornati su chip chat podcast per questa nuova puntata io sono kevin bescera ma vado subito a presentare l'ospite di oggi e che posso definire un amico passi dai diciamo amici e che importante avere anche amici del genere e capirete subito il perché vi presento riccardo morabito in a ragazzi king allora direi che ci siamo quindi vediamo che che c'è da fare riccardo intanto benvenuto ti ringrazio per essere grazie a te che è il mio divano comodissimo devo dire lo so che c'è stato qua sotto però va bene così vecchio ma comodo io va bene manteniamo così perché ci conosciamo cioè come ci conosciamo io ho fatto una accademia di recitazione che ho terminato e non facciamo il nome dell'accademia però salutiamo tutti quelli dell'accademia che ci stanno che ci sono ancora dentro io quindi però diciamo non sei qui principalmente per la questione attoriale però per un'altra tua passione che devo definire effettivamente atleta certo beh arte king che deriva poi da nickname di instagram ecco finita l'arte però per quanto riguarda il bodybuilding quindi per quanto riguarda il livello atletico io ormai ho cominciato a 17 anni quindi parecchi anni fa ed è soltanto un riflesso di tante passioni ma anche tanta solitudine perché all'inizio quando sei sei pischello devi cercare un attimo di capire chi sei cerca di capire come confrontarti con gli altri era un periodo in cui ero parecchio solo quindi ho detto ma sai che c'è devo trovare uno sport devo trovare una valvola di sfogo e non mi sono mai posto come obiettivo fisico quello che ho raggiunto adesso ma soltanto un ci vado mi diverto c'è sto due tre ore e poi torno a casa contento e quindi giorno 1 2 3 4 passavano i mesi e io io mi sono sentito veramente meglio con me stesso e quindi mi ha dato modo di essere la persona che sono grazie a quello sport io dico sempre non sarei mai venuto a roma non sarei mai stata la persona estroversa o comunque che ha una rete sociale che adesso senza quello sport quindi mi ha diciamo formato posso dire una cosa sulla solitudine ecco hai subito catturato la mia attenzione perché era successa questa cosa particolare ora come si può ben capire dall'intro io non sono una persona molto atletica o comunque ho avuto dei momenti e probabilmente il momento più atletico della mia vita è stato quando mi aveva lasciato la mia ex e questo è il classicone salutiamola tutti c'è stato questo periodo poi fatto di dieta e allenamento che era un allenamento totalmente a corpo libero quindi io avevo capito poi dopo un po di mesi che lo stavo facendo che era più una questione mia di andare a sfogare magari determinate cose sono emozioni represse che in qualche modo devono devono uscire quindi esatto e mi sentivo appunto come dicevi tu molto bene con me stesso che era la cosa che poi effettivamente diceva o sto facendo una cosa buona per me certo c'è stato molto bello ora poi negli anni per me è diventato uno stile di vita quindi non esiste che io vado in vacanza vada a qualche parte se non ho i pasti pronti se non ho il cambio perché sudo di continuo se non ho una palestra dove andare perché sennò scapoccio se non faccio i miei passi se non mi alzo presto e quindi è diventato col tempo uno stile di vita ma dietro c'è soltanto un ok questo è un giorno nuovo devi vederti meglio devi cercare di essere meglio del giorno prima ed è una sfida è una continua sfida perché con gli anni è diventato anche una passione che è sfociata anche nell'agonismo quindi ormai faccio gare da circa cinque anni però all'inizio era veramente una sfida con me stesso non mi accetto per quello che sono ho delle paure a confrontarmi con gli altri e questo sport mi ha dato la possibilità di dire ok prova questa strada vedi che se pensi di avere del talento anche a livello recitativo sociale o in qualsiasi altra arte beh ce l'hai dentro di te nessuno te lo deve tirare fuori e forse la sicurezza in primis col fisico mi ha dato modo di poterla far uscire sentirci bene noi principalmente fa poi trasparire questa cosa anche al di fuori che è come si suol dire quella solita sicurezza no quella una persona molto sicura da cosa si dice da una camminata da un qualcosa anche l'abito che porta dall'abito che porta da un'attitudine esatto il nostro corpo in realtà è la nostra cartolina da visita quindi è normale che se noi entriamo nel luogo pubblico o di un certo livello e troviamo due persone con due fisici diversi andranno a vedere per forza di cose quello o più atletico o diverso o con qualche difetto la normalità non piace a nessuno cioè ci vuole qualcosa di diverso nella società adesso è anche richiesta addirittura qualcosa di diverso della società ora quando mi ha detto quando entri nei luoghi e vedi persone diverse andiamo a spezzare un attimino questo discorso con una parentesi molto comica nella mia piccola esperienza palestrogena chiamiamola così entrando le prime volte in palestra io comunque non sapevo effettivamente cosa dovessi fare quindi c'era questo ma non si può neanche definire personal trainer c'era una palestra molto fai da te ok andavi questo ti poteva dare una lista ok tu seguivi questi esercizi che appunto lui ti dava ti dava i primi giorni le istruzioni magari su come farli però non seguiva tutto quindi era molto abbraccio a me faceva tremendamente ridere perché comunque stai parlando di un ragazzo delle superiori una delle prime esperienze in palestra quindi pulcino un anatroccolo esatto che cercava di entro in questo posto e inizio a vedere la fauna la fauna che adesso tu magari sei abituato alla fauna che ci può essere nelle palestre qui questa palestra di giù era molto artistica certo dire caratteristica di allora tu ti ritrovai persone cioè tipo questi tipi con un po di muscoli non dico tanti un po di muscoli che sembrava una partita di tennis continuo ma era tipo la gara che facesse l'urlo più forte sono tipo dei meme del mac di oggi insomma è roba del genere non penso proprio ed è proprio quella questione che io poi con gli anni con l'arrivo dei social dove adesso diciamo mi escono spesso e non capisco il perché dei reel dove c'è gente che si allena ma proprio pesantemente tira su roba pesante non so perché mi escono e non è che c'è questa cosa che tu non sai forse comunque quello che mi faceva ridere è vedere adesso gente che si allena facendo degli sforzi incredibili che quasi non emette rumore e quelli lì che sollevano sti 15 chili ai no ma manco 10 chili ai come si chiama i tricipiti sì ok quello è il tricipite è questo qua ok vedi e questo è un passo avanti capito queste cose proprio vabbè erano anche altri anni e quindi penso che nel giro di 15 anni la community in italia del fitness del bodybuilding è cambiata parecchio si è passato dal urlo perché devo farlo sentire al adesso mi alleno e sono cazzi vostri cioè parlano i fatti ok ok però sì gli inizi anche io quando ho cominciato 17 anni ho visto parecchi over 40 50 che dettavano legge tu dicevi insomma sono entrati in un posto giusto perché qua se urlano se picchiano dici vabbè proviamo no però è evoluta tanto la l'idea del fitness in italia e anche le palestre ormai sono molto attrezzate sono piene di personale competente quindi molto diverso però qualche soggetto trovi sempre qualche fuori di capocia c'è sta vabbè quelli diciamo ti catturano anche l'attenzione si dice giusto pago 50 euro ma per vede lui che se fa male e quindi pago ben volentieri e poi adesso si è creata proprio una cosa tipo i fail sì sì che le sono brutte però senti senti proprio il dolore fisico e la roba di quelli che cadono i pesi addosso quelli che si spezzano l'omero in diretta o quelli che fanno braccio di ferro dici sì però e c'è la possibilità che ti rompi lo vuoi fa sì te rompi sei forte allora continua così però diciamo poi effettivamente questa passione adesso ti sta portando se li possiamo chiamare i risultati dei risultati in cui effettivamente tu ti senti anche un po fiero cioè stai trovando quella sicurezza che cercavi certo certo ma io quello che dico anche a ragazzi che vogliono cominciare che comunque hanno un approccio verso questo mondo è se volete dei risultati i bodybuilding non è la vostra strada perché voi dovete cominciare per voi stessi e questa deve essere è duro da dire ma deve essere una malattia cioè tu ci devi andare perché devi curare qualcosa nel momento in cui poi riuscirai a togliere un po di tutti questi pensieri i risultati arrivano quando non li cerchi quindi il momento in cui tu sta lì ti impegni così come nella vita perché la palestra è un sacrificio mangiare bene è un sacrificio portarsi le cose dietro lo è ma ti dai risultati quindi penso che questo sport sia veramente quello più vicino a una filosofia di ti impegni e le cose arrivano quindi è stupendo cerca ogni giorno ti ti dà qualcosa in più quello ti spinge poi a fare sempre di più no ma anche perché non stiamo parlando semplicemente qui di fare palestra cioè bodybuilding cioè c'è la parola building costruzione quindi come un'architettura del proprio corpo certo c'è uno solo dietro assolutamente io mi ricordo di lui la cosa più caratteristica ai primi giorni del secondo anno che lui aveva appena iniziato questa accademia era vedere lui nella pausa pranzo che si divorava una ciotolona di massa attenzione la nostra pausa comincia alle 9 45 e siccome io sono sveglio dalle 6 di mattina io faccio due pasti alle 9 45 e a mezzogiorno quando finiamo e alle 9 45 io avevo 200 grammi di pasta e quindi rega se scherza su queste cose cioè se deve mangiare se magna punto fine no è proprio questa la questione che molti non sanno dietro effettivamente che cosa c'è anche i sacrifici che uno fa sì ora diciamola com'è io sono molto debole se mi invitano al mac raramente dico di no esatto a te piace il mac suppongo in realtà mi piace cioè mi piace così come mi piace il sushi e tante altre cose però per discipline dicono bisogna dire no poi soprattutto nei periodi in cui il coach dice figlio mio adesso cominciamo la preparazione si chiude ma quando poi sono nella fase diciamo di massa qui posso mangiare di più allora il sushi garantito la pizza non si scappa però non sempre è quello purtroppo incappi in questo loop in cui ti puoi concedere qualcosa ma non troppo perché ovviamente se devi sfruttare il corpo per quello che è al massimo delle potenzialità è tu non puoi dargli una benzina di bassa qualità certo il 90 per cento che devi introdurre è di alta qualità idratazione nutrizione integrazione tutto e qua cala il gelo quanta roba che c'è dietro e adesso un aspirante bodybuilder di 18 anni sta dicendo forse forse a mcdonald mince suo pollo il mio scopo qual è invitare qui persone come te se dovessi pensare adesso a una persona che sta portando avanti la propria passione con dedizione e sacrificio perché il sacrificio anche una parola che non bisogna dimenticare anch'io faccio dei sacrifici che magari non sono gli stessi tuoi per inseguire quella che è la mia passione però è proprio questo cioè far capire a un giovane qualsiasi che parla con me o parla con te che effettivamente non è tutto rosa e fiori cioè io adesso nel mio piccolo oppure le cose che faccio molto spesso quando mi vede qualcuno dice ho bello hai fatto sta cosa ma quanto lavoro c'è indietro ma a parte io non sono soddisfatto di quella cosa ok perché forse non siamo mai soddisfatti però non delle cose che facciamo cioè io sono come sia anche per te una serie e quindi quella persona che ti diceva peda è la prossima volta è ma tu sai che cosa ho fatto io per fare questa cosa qui si è vero magari l'appoggio vedi tu un sacrificio da un punto di vista del cibo vero è più fisico su un sacrificio fisico esatto io magari per una determinata cosa tipo per il mio ultimo cortometraggio mentre lavoravo anche come cameriere ho sacrificato notti di sonno ma il tempo è fondamentale cioè come lo gestisci poi veramente ti fa dire che persona sei se riesci veramente a togliere del tempo a te per darlo a qualcosa che magari un futuro dice sono soddisfatto di quello che ho fatto il cortometraggio vedi una gara vedi qualsiasi cosa però è tolto del tempo libero ha investito e c'è questa è crescita questo è veramente un punto d'arrivo per andare avanti secondo me assolutamente ma anche perché di cosa siamo fatti carne ossa sì ma siamo fatti di tempo se noi abbiamo un dato tempo della nostra vita ok decidiamo noi come investirlo e dare importanza una cosa rispetto un'altra è una scelta molto importante per noi ho deciso per tutta la mia carriera giovanile di non essere una persona molto socievole nel senso che non esco sempre il sabato il venerdì sera quindi magari non sono sempre a bere con le persone perché per me letteralmente quando ero anche ragazzino spendere 40 euro a settimana per bere degli spritz con gli amici e dire stronzate esatto erano meglio investiti a casa non era tempo di qualità esatto erano meglio investiti a casa per me nello scrivere e organizzarmi per le cose che volevo fare io ad esempio io nel mio piccolo prima che arrivasse il bodybuilding ma comunque anche quando era nella mia nella mia parentesi di vita il mio venerdì sera o sabato sera era andare al cinema quindi discoteche non visto mai fregna zero e quindi asterisco fregna col bodybuilding arriva arrivano tante cose dopo ma per me il divertimento era ok coltivo quella passione mi piace il cinema mi piace le emozioni che riesce a trasmettermi quindi io per me il venerdì sera era vai al cinema alle nove ti accompagni la mamma torni a casa però soddisfatto certo e spendevi molto cheap andavi a spendere quei 7 8 10 euro e fine cioè per me era tempo di qualità e ho imparato tanto poche serate ha fatto in discoteca o poche serate veramente con gruppi di amici a stare lì a fare aperitivo a bere mi sento mi sento molto bloccato in quello mi sento veramente come se stessi perdendo del tempo e non lo stessi investendo nella maniera giusta che poi ti posso dire io quando poi mi concedo questo tipo di serate anche attualmente quando magari succede spero sempre che sia una serata che piacevole a ok almeno piacevole perché poi il mio terrore è tornare a casa alle 23 di notte quindi aver speso queste 45 ore con delle persone e dire potevo rimanere a casa cioè quando io mi dico da solo questa frase vuol dire che è andata male no ma a parte è andata male me la sento me la sento dico mannaggia cioè io non vorrei però allora forse non tutte le persone la pensano così veramente poi soprattutto dopo i 18 20 anni quando incominciano a lavorare dicono beh io mi faccio il culo da lunedì a venerdì il sabato e la domenica è sciallo totale voglio stare con gli amici voglio spendere voglio staccare la testa e poi però ricomincia c'è un circolo e poi c'è la mia paura invece è quella mi sveglio a 50 60 anni e dico ma quanto tempo buttato dietro delle cose che non mi hanno restituito ma non a livello monetario proprio livello emotivo livello di crescita un arricchimento d'animo dalle persone perché poi noi siamo fatti di contatti quindi se io vado in un determinato posto con delle persone con te sono qui con te è per crescere e per capire cose in più e per confrontarsi se no dicevo ma invitato chi è in fascio regà io ho una palestra la palestra mi è dopo questa è una cosa che adesso il momento è ripetibile quindi è giusto che che me la gode è giusto che entri in contatto con con queste cose quindi mi fa paura svegliarmi e dire ok tiri le somme e che fai che cosa è in tasca dopo tutto questo era questo un pensiero che a me mamma mia siamo già con un piede nella fossa dagli così e forza perché faccio anche questo podcast per dare la possibilità a chi lo guarda magari un ragazzo che lo guarda interessato a sapere effettivamente ma riccardo che io seguo su instagram mi piacerebbe fare quello che fa riccardo mi piacerebbe diciamo aspirare a questa cosa qui potrebbe essere il mio futuro un ragazzino magari si può sentire un po scoraggiato da dalle cose che abbiamo detto perché effettivamente poi io non pensavo diventasse così pesante invece siamo molto angosciati da siamo siamo angosciati la vita c'è angoscia se tu ti dovessi rivolgere a me come ti rivolgessi a un ragazzo non se vuoi rivolgerti direttamente un ragazzo che vuole approcciare questo mondo quale sarebbe il tuo consiglio effettivamente allora come ho detto prima gli direi di farlo per se stesso perché non c'è comunque vittoria gioia più grande nel cercare di portare a casa un risultato e poi ti accorgi magari soprattutto in questo mondo dei social che vedi tanti atleti tanti che sono veramente fatti con lo stampino dice cavolo vorrei diventare come lui però se tu ti impegni e ogni giorno fai del tuo meglio poi ovviamente c'è la genetica c'è quant'altro ma ci arrivi prima di quanto tu possa pensare e quindi l'obiettivo quello che dico ai ragazzi è veramente investite su di voi cercate di stare in palestra quello che vi serve sfogarvi quello che vi serve e impiegare il vostro tempo in questo modo inseguire qualcosa che non è realizzabile ma veramente al di là delle potenzialità al di là di tanto altro non serve quindi fatelo per voi cominciate a allenarvi cominciate a mangiare bene per voi ma sappiate che è un percorso lungo richiede del tempo però riesce a darvi tanto nel lungo periodo ma soprattutto anche livello di salute cioè io sono arrivato qua al terzo piano ma posso fare tutta la palazzina due tre volte e cominciamo la puntata cioè capito quindi sia a livello fisico medico sia a livello emotivo che hai sia a livello di figura con gli altri o anche di benessere con te stesso quindi secondo me fatelo per voi cercate di lottare per voi e quello che c'è all'esterno i vari social o i vari amici che sono più o meno avanti di voi non vi devono interessare perché ci sono tante cose nella vita che vi freneranno ci saranno momenti negativi e lì dovete dire ok lo sto facendo perché mi va o perché sto cercando di raggiungere qualcosa nel momento in cui capite che lo state facendo per voi allora avete già risultati ma sai che io mi allenerai con te mai convinto visto io sono motivatore per questo qua non c'è solo l'atleta ma c'hai anche la persona c'hai c'hai riccardo king viene dopo king arriva in palestra e ti è esatto e ti flexa tutto quello che vuoi cercare di spiegare a una persona come voler cambiare se stessi è difficile ma solo se se hai passato veramente quello che rivedi negli occhi del ragazzino dice ok questo ha bisogno d'aiuto e l'avesse avessi avuto io tempo fa una guida quindi quando ho cominciato 16 17 anni e sarebbe stato diverso sono arrivato in questo ideale fisico per disciplina però ci vuole sempre qualcuno che ti dica guarda le cose stanno così per tutti gli aspetti in questo mondo dello sport tocca farsi culo allora adesso non diventando seri perché alla fine è una puntata molto seria stiamo scherzando si è capito è entrata proprio nella motivazione dobbiamo cercare molto motivazionale ora vorrei parlare appunto del secondo argomento insieme a te e voglio fare una piccola premessa io e riccardo non siamo medici non siamo esperti di questa cosa di cui andremo a parlare quindi io inviterei anche chi ascolta o chi guarda adesso questo nostro confronto semplicemente ad approcciarlo come due persone che discutono su un determinato argomento esprimendo le proprie opinioni ok perché comunque molto delicato come argomento quindi esatto ci vuole tatto diciamo come avete potuto intuire anche dal titolo vorremmo parlare di disturbi alimentari ora mi premeva parlare di disturbi alimentari perché è un qualcosa che si sta abbandonando anche perché proprio le ultime notizie del fatto che ci siano stati tagli i fondi statali per questo tipo di disturbi a me ha distrutto come notizia perché non ne soffro fortunatamente non ne ho mai sofferto conosco persone che ne hanno sofferto o comunque mi è capitato di vedere molti film al riguardo e sono sicuro che anche tu magari ti sei fatto un'idea perché ti sarà capitato di incrociare delle persone del genere con quello che fai io intanto insieme alla mia ragazza abbiamo diciamo un gruppo di ragazzi che seguiamo quindi abbiamo soprattutto le ragazze sono molto soggette essere ad avvicinarsi a questi disturbi perché comunque è un qualcosa che non non deriva dal cibo ma deriva da appunto dei traumi deriva da tante altre cose che si sommano poi e si sfociano nel cibo quindi per mia esperienza è un tema molto delicato quindi insieme alla mia ragazza poi magari cooperiamo con dei nutrizionisti in modo specifico per l'atleta per la ragazza per il ragazzo che abbiamo davanti e secondo me quindi parere mio personale la vedo in due modi ovvero il riccardo atleta è quello che cerca sempre di spronarti quindi dirti ok hai avuto questo momento non stai bene però cerca di avere disciplina cerca di di farti il culo cerca di seguire quello che ti piace fare e questo cerca di comunque coprire quello che può essere un disturbo però poi capisci che non basta questo perché non siamo davanti a un una persona che si è fatta male a livello fisico e dice ok con un po di fisioterapia con un po di tempo per curare poi vedrai che riuscirai a fare l'alzata laterale perché ti sei fatto male alla spalla no c'è una rottura diversa esatto c'è una rottura con te stesso che ti porti dietro quindi quello che dico ai ragazzi che purtroppo hanno questo disturbo dal disturbo non si guarisce cercherai di controllarlo se riesci ma ci sarà sempre quella luce che si accende ogni tanto che ti dice mangia o che ti dice ascolta questo fai quest'altro purtroppo devi cercare di trovare il tuo modo di governarlo e quindi il riccardo invece personal trainer ti viene a dire ok hai avuto un momento no prenditi dal tempo ascoltati cerca di capire cosa ti ha fatto star male ma non solo del cibo o non solo dell'allenamento ma anche livello sociale c'è perché in una determinata situazione poi sei tornato a casa hai mangiato o non hai mangiato o ti sei privato perché il disturbo deriva soprattutto da anzi non deriva ma si trova nelle azioni quotidiane si trova nella quotidianità si trovano i rapporti sociali soprattutto è probabilmente esatto ai miei tempi un po se ne parlava anche nelle scuole se poi avendo fatto l'istituto alberghiero con l'alimentazione un po si parlava di queste cose qui ma io mi accorgo che magari i giovani d'oggi parlandoci rapportandomi non sanno effettivamente quale sia la distinzione tra anoressia oppure bulimia quindi vorrei fare intanto un piccolo recap di quello di cui stiamo parlando perché i disturbi alimentari sono tanti sono diversi e non bisogna giudicarli soprattutto da chi non li conosce quindi possiamo partire effettivamente da quella che è l'ortoressia che molto spesso precede l'anoressia cioè l'ortoressia è la fissazione sul cibo sano ok sul cibo sano quindi effettivamente gli ortoressici iniziano in questo modo qua dato che precede l'anoressia porta a quello l'anoressia effettivamente che cos'è è un disturbo alimentare è data da una fissazione su un peso specifico quindi stiamo parlando di una persona principalmente donne perché in base a percentuali sono più donne che uomini soggette esatto è una fissazione io devo pesare tot non devo andare né su né giù pensare che un'anoressica effettivamente non mangi non è totalmente vero esatto poi ci sono dei modi diciamo anche per scoprire se ci sono di se sta partendo effettivamente questa malattia tipo gli anoressici sono tipici sminuzzare il cibo molto e già questo cercare di esatto per dilazionarlo no dici mangio di più o comunque o più quantità in realtà no esatto ti posso dire però io sono dispiaciuto perché cioè viene colto non viene colto ma anche perché quante famiglie oggigiorno mangiano ancora insieme a tavola è vero cioè poche cioè per i ritmi per le abitudini che sono cambiate non c'è più quella cosa o a pranzo siamo tutti insieme a cena sono tutti insieme io anche con i miei quando poi sono giù a casa loro tornano a casa dal lavoro che io ho già mangiato quindi non mi vedono mangiare non è un momento di unione io non ti faccio vedere effettivamente come sto le emozioni sono totalmente collegate la bocca dello stomaco è collegata al plesso solare cioè la stessa zona quindi se noi stiamo male con noi stessi se c'è un qualcosa forse il prima risentire cercheremo conforto in qualcosa che riuscirà a saziare quel esatto ed è anche un modo per parlare di un qualcosa in un altro modo c'è un qualcosa che noi non riusciamo a dire lo dimostriamo in questo modo finiti perché spesso i cuochi magari anche stellati riescono a raggiungere dei delle punte emotive solo col cibo c'è in realtà un piatto però è in modo di comunicare esatto quindi è molto forte molto più forte di un semplice mangio un cibo perché mi piace c'è tanto di psicologico di neurologico dietro passando alla bulimia effettivamente il paziente anoressico ha il terrore di passare poi alla bulimia perché la bulimia è un disturbo incontrollato cioè nel senso lì c'è proprio un malessere di un qualche tipo emozionale psicologico che la persona va a sfociare con questo mangiare compulsivo che poi viene eliminato con quelli che può essere il vomito oppure anche la saliva certo stai facendo male a te stesso lo sai e lo sai è quello discorso per far arrivare un messaggio a qualcuno molto spesso cioè io mi è capitato di vedere dei film che posso consigliare in questo caso come to the bone probabilmente potrebbe essere uno dei più famosi che si vede poi questa fase qui si vede anche lo sminuzzare del cibo mi ricordo questa scena con la carne se non se non erro la bulimia diventa un qualcosa di veramente pericoloso cioè molto più pericoloso dell'anoressia perché con l'anoressia tu hai il controllo a livello medico il sistema immunitario ovviamente compromesso per una persona che non mangia che non assume niente quindi a livello medico l'anoressia anche fa i gravi danni però per quanto nel loro piccolo hanno una funzione di controllo e si limitano anche troppo il problema come dici tu è la bulimia quello veramente grosso una persona perde totalmente il controllo una persona si sveglia la notte o comunque non si gode una relazione non si gode un momento con le persone perché già sta pensando o sto mangiando troppo poco vorrei mangiare di più appena vanno via vedi cosa faccio è tosta è la tua mente che ti sta governando cioè non è un corpo né kevin ok nel suo insieme la mente di kevin controlla tutto e non c'è modo di dire aspetta un attimo è giusto quello che sto facendo sto ascoltando il cercare di limitarmi il vomitare o tante altre cose in realtà no perché dietro a un disturbo c'è veramente tanto di psicologico di clinico e ormai è diventato abbastanza è abbastanza snobbato cercare di dire quella persona sta così e vabbè ma alla fine non sta a mangiare o comunque sta a mangiare troppo si ma proprio per sminuito proprio perché se ne parla poco capito cioè tu ad oggi vedi una persona molto magra ma di quella anoressica capito la stai già etichettando certo non sai effettivamente io cerco sempre di assenermi questa cosa qua e proprio per chiudere un attimo l'anoressia sempre per il citare o consigliare film un altro film che mi va di consigliare io non so se questo tu l'hai visto inviterei chiunque a farlo perché si guarda l'anoressia da un altro punto di vista questo qui si chiama primo amore di matteo garrone lo conosco nei primi anni 2000 adesso non ricordo bene e tratto da un libro che se non erro si chiama il cacciatore di anoressiche un uomo e una donna si incontrano per un appuntamento al buio e lui ha la fissazione per le anoressiche cioè a lui piacciono le anoressiche ha effettivamente lui un disturbo psicologico su questa cosa qui questa donna poi iniziando questa relazione con quest'uomo si fissa anzi si fissa si lascia convincere effettivamente a dimagrire fino a diventare anoressica e quello che a me vengono i brividi perché ci sono delle scene particolari ma è anche capire effettivamente come non può essere solo un problema tuo interno ma anche un adattamento come in questo caso quindi non è mai da sottovalutare il come nasce perché può nascere certo in svariati simi modi poi continuando sempre il discorso sui disturbi ne abbiamo altri due credo almeno che possono essere il binge eating anche quello forse anche più comune diciamo che se senti parlare più spesso soprattutto ora con i social ho avuto il mio momento di binge anche tra gli atleti spesso capita che sono a un regime di poco calorico protratto per tanti mesi se ti avvicino la gara binge eating capita spesso cioè non è una cosa così così rara però sui social si sente parecchio ma anche perché lo riscontriamo nel nostro quotidiano quando magari siamo stressati da un qualcosa cosa facciamo mangiamo viene giunto questa fame compulsiva se inizia a diventare un disturbo quindi una malattia può portare a conseguenze gravi qui sempre perché sono cinefilo vanno a citare vai ovviamente the whale di dare un trauma familiare che aveva quest'uomo che riusciva a sfogare solo in questo modo c'è qui la scena dove dopo la chiamata no dopo che la figlia se n'è andata se non erro sia ingurgitare cibo fino a stare malissimo ti tocca ti tocca perché è molto umano cioè cercare di capire come una persona affronta un trauma un problema e ci sono vari modi e magari queste persone sono soggette a sfogarsi in quel modo però non gli piace cioè vorrebbero fermarsi e quello è perché non hanno il controllo non riescono a dire di no perché il cibo cerca di sopraffare la loro psiche il loro modo di ragionare quindi per forza di cose dicono io non trovo altro modo per risolvere è un percorso lungo è quello quello il problema ci vuole tanto tempo ecco perché secondo me un disturbo non una volta che nasce si può solo controllare ecco perché dico da riccardo atleta il modo per trovare la soluzione c'è sempre non esiste che tu rimani in questo loop di disturbi loop di devo trovare il modo di risolvere questo problema vado nel cibo o vado su me stesso mi tolgo del cibo c'è un percorso lungo da fare ma alla fine vedrai che riuscirai governare riuscirai ad avere una persona che riesce a affrontare questo percorso questo problema la cosa anche vostra personale no è quel momento in cui una persona ti dice grazie a voi è quello è toccante molto bello perché alla fine in italia il fitness è legato a mi fai la scheda per esercizi per la ginnastica questo il fitness in italia però il momento che arriva da noi un ragazzo una ragazza in lacrime perché dice io non ce la faccio più io non mi godo più niente io non so più chi sono cerco in voi un modo per trovare me stesso forte dice è una grossa responsabilità non siamo medici non siamo nutrizionisti quindi non andiamo a dire le persone cosa mangiare c'è sempre un esperto dietro e che che coopera con noi però nel vostro piccolo però esatto cerchiamo di far star meglio queste persone non è poco ma non è poco soprattutto nella società di oggi che è una società egoistica dove una persona vabbè potrebbe dirti non ho tempo da perdere per queste cose o semplicemente la classica risposta non è il mio ambito tu potresti non metterti in mezzo perché dici io non voglio causare ancora più problemi perché non sai come gestire la situazione anche delicata è un'ulteriore sfida con voi stessi ma parlo anche della tua ragazza che effettivamente salutiamo che si si presta anche lei a questa cosa ed è ammirevole cioè se posso dire dal mio punto di sì 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 poi vedo soprattutto per quanto riguarda uomo donna le donne sono più soggette ma non perché a livello genetico sono più predisposte a mangiare ma perché riconoscono il problema riconoscono di di essere anoressiche bulimiche o quant'altro e di chiedere aiuto mentre un ragazzo che ne ho avuti tra le mani cerca sempre di dire no vabbè ma io mangio perché dai sto uscendo con gli amici o perché comunque devo mangiare perché sono in massa o perché ho obiettivi ma in realtà c'è tanto dietro cioè uomo donna sono secondo me sullo stesso piano è solo che la donna capisce il problema e cerca aiuto l'uomo a volte un po più orgoglioso quindi quando mi è capitato qualche ragazzo che vedevo che spesso non mi mandava o qualcosa nei check non andava nonostante mangiasse poco o salenasse tanto poi invece ho scoperto che aveva questi disturbi ma parlamene subito siamo qua apposta c'è dovrebbe essere un contatto molto più umano e forse anche per questo la società di oggi impone soprattutto su questo tema un po' di un po' di rigore un po' di rispetto anche un po' di orgoglio magari nel lato maschile secondo me da quello che ho visto mentre la donna riesce molto di più a esporsi e dire ok io penso di avere questo problema mi potreste aiutare per quanto comunque sia una cosa difficile assolutamente cioè arrivare molto intima come arrivare a dirlo è già un grosso passo ecco forse gli uomini sono più vicini a un altro disturbo che magari tu hai potuto vedere di più la vigoressia beh ci sono dentro no vabbè ci siamo spero che tu non sia vigoressia però no no quel punto no però andiamo a spiegare un attimino c'è la vigoressia ovviamente penso che venga dalla parola vigore stiamo parlando però di un disturbo dove ci sono queste persone fissate quindi hanno un disturbo alimentare sulla fissazione per il l'aspetto fisico della muscolatura che non è uguale a quella che è sullo specchio in pratica il la disparità è questo e tu ti vedi allo specchio per una persona che non sei io mi vedo lo specchio più piccolo quindi io dico ma io sono così secco comunque non pensavo di essere così e lo stesso capita anche le ragazze che magari si vedono grasse allo specchio e in realtà magari sono molto magre onoressico quant'altro al contrario ci sono dell'atlete che sono parecchio grosse o si vedono più piccole quindi è un quello un disturbo molto più mentale ma io dico nel mio piccolo ce l'ho perché è normale che vorrei vedermi in un certo modo però è quel fuoco che ti fa dire ok si esatto cioè spingi per arrivare all'obiettivo però a volte è giusto capire se è una cosa oggettiva o meno e te lo deve far capire un'altra persona ad esempio la mia ragazza mi dice sì ma sì ma non vedi che non ti entrano nei magli infatti sto sempre con la tuta perché è così cioè non non e allora li mi rendo conto giusto se compri taglia LXL forse così piccolo non sei ma ci vuole sempre qualcun altro che te lo dica però è sia per uomo che per donna così sia a livello di massa muscolare ma sia anche a livello di massa grassa e spesso anche al contrario una persona grassa allo specchio non si vede così grassa perché dice vabbè ma io sono così perché è giusto che sia così o perché la società dice che va bene così ho tante altre cose quindi è il rapporto un po' distorto che hai con lo specchio un invito che magari mi sento di fare a chi è vicino a una persona che può soffrire di questo tipo di malattie di cui abbiamo parlato magari di affrontare insieme il discorso in una maniera più umana possibile affinché si possa effettivamente aiutare e non giudicare l'altra persona ma sempre per un per un amore verso l'altra persona cioè perché alla fine di questo che parliamo in rapporti chiaro poi purtroppo ormai nella società soprattutto da 3-4 anni la società vuole che si accettino certi canoni certi fisici addirittura su che ne so varie aziende cercano di mettere nella loro pagina di shop online la sezione taglie forti e va bene perché comunque stanno cercando di omologare tutti non siamo tutti diversi sì ma nessuno è sbagliato e questo l'accetto ma a livello medico e se tu pubblicizzi una persona molto grassa come una cosa sana è lì che è sbagliato secondo me perché a livello medico una persona oltre l'estetica ci sono problemi cardiovascolari e cardiorespiratori e colesterolo hdl di hl alti quindi proprio il livello di sapere di cosa tu stai metteremo un sacco di sottotitoli e la tua faccia così sotto quindi non è solo una questione estetica se tu ti accetti nella persona che sei ma benissimo cioè hai già vinto io ancora non mi accetto e questo è il discorso però una persona bellissimo tesoro mio se una persona veramente sta bene con se stessa nessun problema ma cercare di promuovere un fisico magari veramente con un grado di obesità alto come una cosa sana quello è sbagliato perché ci sono veramente delle percussioni importanti sul fisico non da sottovalutare questi sono sempre pareri personali vi invito ad approcciare questa nostra conversazione con non semplicità neanche con leggerezza semplicemente per quello che è una discussione tra due persone niente di più niente di meno io con le mie opinioni lui con altre opinioni che sono molto diverse dalle mie in base a poi quelle che sono essere anche un questo era anche un punto di partenza per una chiave di lettura loro per assolutamente bene io intanto ringrazio riccardo per essermi venuto a trovare e flexiamo un po il flex è un po anche se siamo un po sporchini però qualcosa c'è rimasto ancora io ringrazio voi per averci seguito anche per questa nuova puntata vi invito a seguire il canale quindi iscrivervi al canale youtube si sui social anche lui king tanto metto tutto poi in descrizione potete seguirlo così potete anche vedere effettivamente il lavoro che fa lui con la sua ragazza avete anche una pagina dedicata per questo esatto esatto si chiama project 23 la pagina è molto ristretta e molto piccola non postiamo troppo perché vogliamo cercare di di raccogliere tante immagini di tanti ragazzi e poi creare veramente una carrellata di post e di video in cui ci sono tante trasformazioni soprattutto di ragazze però per adesso ci accontentiamo di lasciarla così ancora nuda nuda e cruda non è cruda dalle allora io vi saluto ci vediamo alla prossima puntata e grazie per essere stati con noi ciao ragazzi beh che dici ci picchiamo assolutamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti